penso che va beh, ho schiacciato sì perché adesso già fa il video, già sta a fare il video, penso di sì perché se ora schiaccio parte il countdown vabbè semmai lo rifavamo dai, dovrebbe stannare, vai, guarda lì, bello 3-0 team, Roma throw down, forza Bamboli, se tutti noi, dai è Bamboli, vuoi due, ah sì, vuoi due, scusi allora, aspetta, venti chili, venti, e via, che coglioni, venti usiamo, si rompa vai aspetta allora, a 3 1, 2, 3 3, 2, 1, via la faccio parte a 11, così lo vedi aspetta 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 Grazie a tutti. 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 5 secondi, 3, 2, stop. 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 6 secondi, 3, 2, stop. 5 secondi, 3, 2, stop. 8, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, stop. Grazie. 9.25, quindi mancano due minuti e mezzo. 10.25, quindi mancano due minuti. Dai, prendi il bilanciere, vai, solo giro, vai. Dai, dai. 10.35, dai. 2, 3, 4, dai. Dai, 30 secondi, eh. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, vai. 10, 12, bravo. 10, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 10, 10. 11, 10. ok ok